Per questo nei polmoni cambia l'aria, per il resto sei, sei, sei tutto il buono che c'è adesso. Laura Pausini, insieme a James Blunt, arriva un altro James Bond adesso, noi lo consideriamo il James Bond dei DJ, il mio nome è Tony, il mio nome è Caridi, Tony Caridi. Perché hai scelto questa entrata? Scegli sempre questa entrata, il mio nome è Bond, il mio nome è Caridi, Tony Caridi. Come va? Tutto bene, tutto bene, tu? Bene, stiamo preparando questo grande appuntamento dell'11 di luglio, ne parliamo domani con l'assessore. Io però devo farti i complimenti perché, anzi oggi vi faccio a tutte e due, il maestro ha una camicia rosa bellissima, molto estiva, molto primaverile, complimenti. Tu fai il sfoggio di magliette che sono introvabili, come al solito, eccezionale. No, ti racconto la storia di questa maglietta. Io amo molto insomma il personaggio James Bond da quando ero piccolo, tutti i film, insomma tutti i backstage. Io sono Bond, James Bond. Tutti i backstage. Gli manca solo la banana. La banana è una trovata nostra, no, la trovata nostra. Noi in uno spettacolo che si chiamava L'amico del giaguaro, volevamo fare un po' il verso a James Bond e io al posto della pistola avevo in mano una banana. L'amico del giaguaro, Raffaele Pisu e... C'era poi la donna... Gino Bramieri. La donna chi era? Marisa del frate. Marisa del frate, bravo, bravo. Ti volevo dire, io ho un libro molto bello, mi piaceva questa copertina, ogni volta la dico, ma se ti piace tanto, dicevo a me, se ti piace tanto la francese, fatta la stampata una maglietta. Bellissimo. Ho preso una mia maglietta e ho fatto questa stampata. Bellissima, complimenti. Allora, parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie, parliamo dell'11 luglio, niente, praticamente io ho avuto quasi la conferma di quasi tutti i personaggi, anzi di tutti i personaggi, poi ce n'è uno in particolar modo, Cosentino Docco, ma andiamo il filmato, che dice? Che ha un grande successo in Italia ed è Pasquale Anselmo, ovvero la voce di Nicolas Cage. Ma non solo di Nicolas Cage, Giotto Tour, eccetera, eccetera, e tanti altri. Vediamo un po' il... 30 secondi di filmato con Pasquale Anselmo. Mi fido solo di due persone al mondo, una di quelle sono io, l'altra non sei tu, mi fido solo di Tony Caridi. Ciao, sono Nicolas Cage e anch'io vado al Gypsy Club a sentire Tony Caridi. Bello, eh? Insomma, praticamente tu in questo caso hai fatto uno spot, eh? Sei un grande venditore. No, ma tu... Ma per quanti anni hai venduto? Eh, tanti anni. No, però... Mi dicevano che quando vendevi, vendevi anche le pietre. Sì, è vero. Mi ghiaccioli agli esprimenti. Vogliamo fare una società io? Come no? Tu lo sai? Tu la faresti subito con me, eh? Con te immediatamente lo fai. Bene. Sì. Allora, non solo Nicolas Cage, non solo Pasquale Anselmo, ma anche personaggi importanti. La settimana scorsa abbiamo parlato di Corrado Rizza. Un altro DJ è colui che ha avuto un grande successo al concertone del primo maggio, momento clou della manifestazione del primo maggio nord, o meglio sud-ovest, sud-est, organizzato da un'associazione che si è creata quest'anno. Marco Trani. Vediamo chi è. Insomma, entriamo nel dettaglio. Chi è Marco Trani? Il tuo nome ed il tuo cognome, s'il vous plaît. Marco Trani. Ton genre musical preferé? Il tuo genere musicale preferito? Il mio genere musicale è soul, funky, easy jazz e naturalmente house music e soprattutto anche le cose classiche che derivano dalla Philadelphia e dal Philly Sound. La mia storia nasce a Lizzy Goyne nel 1978, dove proponevo una musica sicuramente diversa da quelli che erano gli antagonisti di questo locale, cioè lo studio 54 di New York e il Paradise Garage in America. Questo locale è l'alternativa a Roma in Italia, un locale gay, frequentato da personaggi incredibili del mondo del cinema, dello spettacolo. Una musica che poi si affiancava molto alle sonorità americane, al Philly Sound, Philadelphia, alla disco, ma con una fetta che avevo inventato io dedicata a quella che era una musica molto lenta di battute, funky e anche cose poi in seguito nei primi anni 80. Con situazioni decelerate a 45 mesi a 33 giri, un genere innovativo molto seguito in quanto si riuscivano a mixare le cose più impensabili l'una e l'altra, proprio per fare in modo che venissero dei mixaggi stupendi sulle tonalità o dischi che nessuno poteva mai pensare di accoppeare insieme perché venivano completamente stravolti. Sono passati da Listeria e sono passato a Cortina, come dicevo, nei locali più importanti di Riccione, Letos, Legos, Villa delle Rose, Prince, Pascià, Paradiso. Soprattutto anche il periodo a Roma è stato incredibile con Listeria che ha segnato un momento veramente pazzesco nella storia. Tutto questo qua mi ha portato poi ad approdare in giro per l'Europa, dove ho lavorato a Ibiza, anche in Germania, in Svizzera, a Londra, a Ministero Sound, piuttosto che il Fabrique, il Queen di Parigi, Vendouche. Insomma, io quello che posso dire è che ho fatto tutti i locali più belli che esistono al mondo e da un conteggio approssimativo ho fatto ballare più di 30 milioni di persone. E io sto qua a far divertire ancora tutti. Grazie a Marco Terani, ha fatto ballare 30 milioni di persone e a queste 30 milioni di persone noi sicuramente aggiungeremo quelle dell'11 di luglio in piazza 15 Marzo, se credete, piazza Prefettura. La manifestazione che aprirà il cosiddetto programma di invasioni e soprattutto il titolo di questa manifestazione è I love the nightlife. Come il libro che stiamo facendo. Io ti offro il caffè. Siccome dici che quando usciamo insieme mi dici che ne prendo pochi, allora mi fai trovare il caffè. Ci dobbiamo fermare, dobbiamo andare, che ne so, in un ufficio. Caffè. Facciamo tre fermate per tre caffè, cioè è incredibile, non arriviamo mai. Per andare ad un appuntamento alle 11 dobbiamo partire alle 9, con 10 chilometri di strada. Tu sai, io poi con il caffè come faccio? Alla tua. Cina. Cina. Caffè d'oro che ormai hai imparato e non ne puoi fare più o meno. Bene, bene. Bene, alla prossima, Toni Caridi. Ciao, grazie ragazzi. Ciao. For your love, Stevie Wonder.